Quando dobbiamo trovare gli zeri di una funzione, non sempre è possibile farlo attraverso calcoli immediati ed espliciti. Allora, in questo video vediamo due esempi in cui possiamo utilizzare il teorema degli zeri e vediamo come il teorema degli zeri ci può venire in aiuto. Il teorema degli zeri, infatti, dice che se una funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato dell'asse reale e se questa funzione assume valori discordi agli estremi dell'intervallo, ovvero se in un estremo è positiva e nell'altro estremo è negativa, allora ammettono 0 all'interno di questo intervallo. Prendiamo, per esempio, questa funzione. Trovare gli zeri di questa funzione significa risolvere l'equazione x più e elevato a x uguale a 0. Per risolvere questa equazione può essere utile adottare un approccio grafico, ovvero disegniamo il grafico di y uguale a meno x e il grafico della funzione y uguale e elevato a x e andiamo a cercare dove e elevato a x è uguale a meno x. Osserviamo che esiste un punto in cui le due funzioni si ugualiano ed è questo punto, potremmo chiamare alfa, compreso tra meno 1 e 0. Allora, consideriamo l'intervallo meno 1, 0 e calcoliamo i valori che assume la funzione nell'estremo meno 1 e nell'estremo 0. Osserviamo che la funzione è continua tra meno 1 e nell'intervallo meno 1, 0, perché è somma di funzioni continue su tutto r, quindi a maggior ragione saranno continuo in un sottoinsieme di r. Allora, la funzione nel punto meno 1 è uguale a meno 1 più e elevato a meno 1, ovvero 1 fratto e. Questo valore è negativo. La funzione in 0 è uguale a 0 più e alla 0 che fa 1 e 1 è un valore positivo. Allora, sono soddisfatte tutte le ipotesi del teorema degli zeri per questa funzione e quindi possiamo concludere che la funzione ammette 1, 0, alfa, compreso tra meno 1 e 0. Vediamo ancora un esempio. Anche in questo caso trovare con calcoli espliciti lo zero o gli zeri di questa funzione risulta difficile. Allora, procediamo come per la funzione precedente e andiamo quindi a scrivere 1 meno x alla seconda più coseno di x uguale a 0, ovvero andiamo a cercare i valori di x per i quali coseno di x è uguale a x alla seconda meno 1. Graficamente troviamo questa situazione dove la funzione y uguale coseno di x è rappresentata in rosso e la funzione y uguale x alla seconda meno 1 è rappresentata in blu. E osserviamo che le due funzioni sono uguali in due punti. Uno è un punto compreso tra 0 e pi greca mezzi, l'altro è un punto compreso tra meno pi greca mezzi e 0. Soffermiamoci su uno dei due intervalli, per esempio l'intervallo 0, pi greca mezzi. Osserviamo che la funzione 1 meno x alla seconda più coseno di x è somma di funzioni continue su tutto l'asse reale, quindi, a maggior ragione, sarà funzione continua in un sottoinsieme di r. Vediamo come si comporta agli estremi. Allora, la funzione in 0 è uguale a 1 più 1, quindi è uguale a 2 e 2 è un numero positivo. La funzione in pi greca mezzi è uguale a 1 meno pi greca alla seconda fratto 4 più 0. 1 meno pi greca alla seconda quarti è un numero negativo, quindi tutte le ipotesi del teorema degli zeri sono soddisfatte anche per questa funzione. Quindi possiamo concludere che la funzione g di x ammette 1, 0, chiamiamolo beta, nell'intervallo 0, pi greca mezzi. In modo analogo possiamo procedere nell'intervallo meno pi greca mezzi, 0, e concludere che la funzione ammette uno 0 anche tra meno pi greca mezzi e 0. Questi due esempi ci mostrano come possiamo utilizzare il teorema degli zeri per identificare gli zeri di una funzione quando non è possibile calcolarli attraverso una procedura più esplicita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti